ciao a tutti oggi è il primo luglio 2023 allora vi volevo fare un video pratico di come ho fatto il mio impianto di irrigazione semi automatico allora un impianto che funziona da sono tre o quattro anni non mi ha dato mai particolari problemi e quindi volevo condividerlo con voi allora partiamo dal concetto ha un consumo abbastanza elevato di corrente di energia elettrica perché ha due pompe praticamente ha una pompa che dal pozzo prende l'acqua dopo vi faccio vedere tutta la parte elettronica eccetera e la butta dentro la butta attraverso questo tubo questo tubo da 32 mm in polietilene nero che può essere bypassato quindi volendo chiudendo questa valvola prendo quella la e attaccando di una gomma posso annaffiare direttamente dal posto se devo tipo in primavera quando non ho l'altra pompa attiva perché ci sono due pompe su vi faccio vedere bene il tutto e l'acqua viene presa dal pozzo arriva attraverso il tubo e riempie questi metri cubi il classico metro cubo da mille litri sono sono in parallelo vedete tutti attaccati uno con l'altro i rubinetti sono aperti c'è una gomma e poi ci sono dei tre vie c'è il come si dice l'adattatore che dal dall'uscita del metro cubo riduce un pollice e poi da un pollice c'è il tre vie con la gomma vedete sono quattro poi ne ho altri là in fondo e quelli li tengo di scorta ne ho altri cinque là che li tengo praticamente quando c'è tutto pieno inizio anno li riempio che poi se a luglio c'è poca acqua nel posto la ripompo su così ho sempre un nove diecimila litri d'accumulo perché non un altro là sulle ruote che usano a le piante quindi ho circa un accumulo da diecimila litri quindi ricapitolando l'acqua viene pompata dalla pompa e le butta dei metri cubi questi quindi sono in parallelo quindi quando si riempie uno si riempiono tutti insieme chiaramente si riempie da prima uno poi l'acqua defluisce negli altri e vedete che adesso sono un po in pendenza qua però avete le livelle queste sono pieni perché è piovuto è stato brutto tempo adesso non hanno rigato quindi sono pieni che praticamente limita il riempimento c'è questo sensore qui che dopo vi faccio vedere dove va che non è nient'altro che un sensore che ha due due contatti diciamo tra virgolette che capisce quando l'acqua arriva a questo livello qui e quando arriva a questo livello qui stacca la pompa e poi c'è un temporizzatore che vi farò vedere poi l'acqua una volta immagazzinata vedete il tubo parte di 32 e passa in questi due filtri qua ci sono due filtri importantissimi due filtri sono quelli classici d'acqua casalinga a rete smontabili svitando questa ghiera poi si estrae il filtro si pulisce con l'acqua e uno spazzolino o diciamo quello che viene utilizzato per pulire le bottiglie non so come quello spazzettone che entra nelle bottiglie si possono pulire poi non ho messo un altro piccolino che ha un'apertura se devo pulirlo rapidamente o mi serve dell'acqua basta che apro questa valvola e poi c'è una valvola che posso chiudere il circuito lì poi l'acqua entra e va e va nella pompa di irrigazione allora questa è la pompa che utilizzo in rigare a un rigare a rigare col goccia a goccia o con la gomma classica adesso tutto staccato qua per farvi vedere dopo il quadro questa pompa questa qui è una petrolo ma potete acquistare quella che volete eccetera questa qua vedete è da 0 75 kilowatt di potenza ed eroga da praticamente variabile da 5 a 80 litri al minuto 2900 giri e qui vedete tutta la targhetta ma poi la potete mettere come volete in base alle vostre esigenze poi l'ideale è mettere un vaso d'espansione diciamo che mantiene la pressione non so sui due bar e mezzo tre in modo che la pompa non va sempre lei esce precarica quello che questo qua non mi ricordo se da 100 litri però si può mettere anche più grosso e dopo lui praticamente fa in modo che la pompa non funzioni sempre questa pompa poi dopo in uscita ho messo una due gomme una che uso per innaffiare qua dentro la serretta questa piccolina qua che uso principalmente inizio primavera e poi c'è un'altra canna un'altra gomma gialla che usano annaffiare le zucchine direttamente perché non ci ho messo il goccia goccia poi come su un altro filtro e poi qua c'è un riduttore di pressione un riduttore di pressione che se devo o tarare la pressione per dire ambare mezzo 2 e per per salvaguardare il goccia goccia perché goccia goccia funziona ambare mezzo 1 1 e mezzo non è che gli puoi buttare dentro tre bar cioè io delle volte di debutto dentro ma non è il massimo ok e poi da qua parte la linea qua ci ho messo un 25 ma sarebbe meglio parte con 32 direttamente io perché avevo giù un 25 e vado in tutto l'orto il frutteto eccetera annaffiare dopo vi faccio vedere le centraline come funzionano a 9 volt magari faccio due parti del video perché altrimenti viene troppo lungo allora questa pompa e come funziona lei ha un pressostato un pressostato regolabile quindi lui legge la pressione è stato circa tre bar quando arriva a tre bar quando il circuito è chiuso quindi e arriva a tre bar ora la pressione arriva a tre ballo e l'està che lui stacca la pompa un classico pressostato per pompe e lui in base alla pressione legge la pressione qua c'è un manometro che ho messo io poi ho messo una sala cinesca da mezzo pollice se devo se devo togliere dell'acqua attaccare una gomma e poi ne avevo messo un'altra se devo alimentare un'altra linea con un sempre un tubo un tubo in polietilena 32 lo posso utilizzare poi avevo messo un atti qua io lascio sempre quando faccio gli impianti tante tanti tante valvole e per poter un domani ampliarlo se devo fare una modifica veloce stacco un raccordo un attacco un altro così non sono resto mai a piedi poi chiaramente tutto smontabile questo è il 32 che arriva dal dell'accumulo è tutto smontabile e così se se mi se ho dei problemi la pompa smonto qui l'ho fissata un'assa abbastanza stabile e smonto svito questo raccordo eccetera mettono sempre una pompa di scorta e se mi si brucia o dei problemi la cambio ne metto su un'altra e questo invece è il quadretto per quanto riguarda la gestione non fatevi spaventare non è cambiato benissimo però giusto per farvi capire un po come funziona allora questa è soprattutto staccato chiaramente e funziona 220 volt quindi fate attenzione se non avete dimestichezza con la corrente elettrica fatevi aiutare da qualcuno competente o studiate bene e poi lavorate sempre chiaramente con la tensione staccata e tutto e quindi questa è l'alimentazione che arriva e ci sono due due selettori uno per la pompa quelle esterne una per quella per quella del pozzo che possono funzionare sia in automatico dopo vi spiego come sia in manuale in manuale sono attaccate in automatico invece funzionano attraverso un timer adesso io ho il timer attivo solo del pozzo l'altro non l'ho ancora attivato perché perché siamo a luglio è piovuto non sto ancora annaffiando tantissimo quindi la gestisco manualmente dopo vi faccio vedere magari in un altro video vi faccio vedere centraline vi faccio vedere goccia goccia come l'ho messo i gocciolatori eccetera adesso questa diciamo è la prima parte e poi magari faccio un'altra parte teorica quindi farò tre parti per quel video qua per farvi capire un po tutto che altrimenti verrebbe troppo lungo giusto per farvi capire per darvi un po un' infarinatura allora questa è la 220 che arriva passa attraverso viene il neutro va diretto va diretto nel nei contattori questi due contattori che servono per far funzionare le pompe e che vengono azionati dai timer quando sono in automatico mentre quando è in manuale vengono bene vengono poi passati timer e funziona direttamente le pompe quando comunque la fase viene viene passa attraverso attraverso questi questi queste cartucce che hanno al loro interno adesso non mi viene il nome adesso quando mi viene ve lo dico hanno ma non mi viene il nome comunque siamo da sicurezza per quanto riguarda la hanno dei fusibili ecco il nome hanno dei fusibili questi qua sono da 8 ampere sono piccolini in base in bavano chiaramente dimensionati in base alle al consumo alla potenza delle due pompe e servono in caso di problemi che così il fusibile salta e non mi crea problemi alle pompe è una protezione diciamo aggiuntiva ce n'è una per le pompe una per la pompa del pozzo una per questa e poi la fase entra nei selettori in base alla modalità che mettiamo automatico manuale lui va nella modalità manuale direttamente ad alimentare le due pompe queste sono uscite del pompe questa è quella che va al pozzo e questa è questa vedete quella che va alimentare la pompa diciamo quella esterna e chiaramente la la potenza passa sempre attraverso i contattori non viene mai sono i contattori dove passano le fasi fasi neutro che vanno alimentare le pompe i selettori e i timer vanno solo a staccare attaccare il contattore il contattore non è in realtà un contatto con una molla che quando quando viene citato scende quindi chiude il contatto e quando non è citato c'è una molla che l'apre e non passa corrente in base alla modalità quindi se la modalità come dicevo prima è manuale va direttamente la corrente alle pompe mentre entra la modalità automatica passa attraverso attraverso questi time questi qua sono timer cinesi che possono essere regolati vedete questi qua sono le ore in cui mi parte la pompa del pozzo a 11 regolazione la faccio andare cinque minuti per continuare a prelevare ogni due ore prelevo cinque minuti e lui butta l'acqua del pozzo e e poi c'è questo questo df 96 dk che ogni nient'altro che un circuito che gestisce il contatto che ho fatto vedere primo che è dentro al metro cubo principale e lui è appena appena è pieno lui stacca apre contatto e quindi la pompa si disattiva quindi faccio andare cinque minuti e lui pompa cinque minuti però se il il metro cubo è pieno lui legge che pieno questo e mi mi apre contatto quindi non passa più corrente quindi la pompa si spegne e la stessa cosa si può gestire con questa si possono impostare dei timer per 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 accendere e spegnere questa questa pompa come ulteriore sicurezza e poi dopo nel prossimo video vi farò vedere un po le come sono come come sono impostate le centraline perché la frutteto e l'orto sono tutte divise in in zone e ogni zona viene alimentata da un elettrovalvola con il suo slenoide a 9 volt che che in pratica va a chiudere aprire in base a un timer che viene impostato sono quelle classiche che vengono utilizzate nei giardini dopo vi farò vedere un po tutta la divisione ce ne sono diverse di centraline nell'orto per farvi capire un po come funziona quindi ricapitolando e i fusibili i due selettori per le due modalità e poi ci sono c'è questo per quella del posto interna che gestisce il troppo pieno e poi ci sono i time nella modalità automatica che gestiscono il contattore questi due contattore dove passa la potenza sia della pompa del posto sia della pompa di irrigazione poi da solo aperto chiaramente viene tutto chiuso viene alimentato e io mi sto trovando bene volevo solo farvi vedere un po come come è strutturato il quadro studiatelo bene pensatelo prendete nel spunto che io vi assicuro che è molto e molto comodo io avendo i pannelli e le batterie non pago anche la corrente quindi quel fotovoltaico riesco essendo off grade non ho costi di energia è chiaro che se dovete alimentare con dei pannelli non è facile perché tra questa qui che 0,75 kilowatt quella nel posto sarà un kilowatt e mezzo quindi sono due kilowatt quindi occorre un inverter impegnativo delle batterie buone tipo litio ferrofosfato occorrono dei pannelli per alimentare il tutto non è facile io avendo l'impianto fatto per in casa strasovra dimensionato riesco a gestire tutto senza problemi perché chiaramente trovate su youtube dei video che annaffiano con delle pompe a 12 volt se dovete annaffiare un due metri quadri va bene ma se dovete annaffiare un orto importante cioè occorre occorrono delle pompe con della potenza occorre tanta acqua quindi questo qua un impianto per chi ha un orto grande per chi ha tante piante da frutta chi ha tante piante piccoli frutti dopo vi farò vedere bene il dettaglio di tutto così capite meglio e nient'altro questa come dicevo la prima parte poi seguirà una seconda e una terza e se avete domande scrivetevi al gruppo telegram dove trovate me e tanti altri ragazzi molto esperti sia dell'elettronica sia di permacultura sia di orto piante da frutto o fai da te in generale sono entrati tanti ragazzi molto competenti ultimamente sta crescendo il progetto e io e gli altri ragazzi siamo molto contenti e altrimenti ma scrivete pure nei commenti e se posso aiutarvi più che volentieri quindi vi saluto vi ringrazio e alla prossima ciao a tutti ciao 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 ciao